In questa puntata, regione, bilancio, approvata la variazione 2022-2024. Fondazione Sistema Toscana, Disco Verde al bilancio di esercizio 2020. Economia, terza edizione del premio Chianti Tesi in Consiglio. Regione, bilancio, approvata la prima variazione 2022-2024. La proposta di legge passa a maggioranza con 23 voti a favore e 11 contrari. Via libera anche agli interventi normativi collegati. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera 900 mila euro, è di 450 mila euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del Governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450 mila euro all'anno che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo. In una situazione economica e sociale che rischia davvero di degenerare, oggi ancora non sappiamo la Regione quali interventi strutturali intende adottare. Al contrario ci vengono, come dire, propinate questo tipo di misure che francamente ci lasciano quanto opposizione assolutamente basiti e fortemente contrari. A un voto positivo si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse. Una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF e degli scaglioni. così come delle tariffe per noi è un elemento importante. Non era il momento di aumentare le tasse. Siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale. Questo è positivo. In delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia dove il carbo letto diventa insostenibile, la riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo, forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia. Arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina, il bilancio della regione toscana arriva in aula e scopriamo che le preoccupazioni della regione sono, da una parte aumentare le tasse e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici. Siamo allibiti da tutto questo, in realtà non si tratta di un aumento delle tasse, peggio ancora si tratta dell'aumento della liquida regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno. Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale perché di poco qualcosa aumenta e noi siamo preoccupati in prospettiva perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie, vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto. Questa variazione di bilancio è incomprensibile, innanzitutto siamo a marzo e la regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica riteniamo questa decisione veramente fuori luogo e anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà. C'è un aumento del prelevo fiscale perché abbiamo assistito e stiamo assistendo a un dibattito surreale forse anche perché siamo il giorno successivo alla primavera ma di fatto c'è un aumento della tassazione in questa regione molto probabilmente non sarà che è il primo. Chiaramente si fa un dibattito su chi si va a toccare, su quali redditi si vanno a toccare, si presuppone che i redditi sopra 50.000 euro non siano gravati da altri prelevi fiscali ma in realtà quello che si va a comporre con questa variazione di bilancio è tutta una serie di interventi che hanno una loro razio e che Fratelli d'Italia ha affrontato costruttivamente in alcuni casi votando a favore, in alcuni casi astenendosi, in alcuni casi chiaramente dando nel complesso un voto contrario a quella che è una manovra che non ci convince per due ordini di motivi la prima perché non va assolutamente a toccare tutto il malcontento che viene vissuto dalla comunità toscana sia a livello imprenditoriale che delle famiglie e poi chiaramente perché nel suo complesso non fa che essere una variazione che non ha nessun tipo di strutturazione e organicità. Sì, il bilancio c'è una manovra fiscale sul rettizia, c'è una modifica della normativa per consentire un cumulo di cariche ma soprattutto non c'era quello che ci aspettavamo davvero, ovvero sia un ragionamento sulle spese correnti della regione perché se è vero che i cittadini e le famiglie e anche le imprese pagano il 30, 40, 50% in più delle spese fisse, gas, riscaldamento, nulla di tutto questo ritroviamo invece nel bilancio regionale che pure ha decine e decine di immobili e migliaia di dipendenti. Questo vuol dire che probabilmente si rimanda alla manovra fiscale a dopo la campagna elettorale delle prossime amministrative. Con 20 voti favorevoli e 16 contrari il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscana richiamando la necessità di indicare nel programma di attività gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse a ciò destinate. Il Consiglio ha approvato il parere sul bilancio di previsione di Toscana Promozione Turistica che è un'agenzia di fondamentale importanza soprattutto in questo momento di ripartenza perché veniamo da due anni di Covid che hanno messo in ginocchio il nostro sistema turistico è un bilancio che logicamente è ancora di transizione che porta 10 milioni in dote appunto per trovare stimoli e progetti per il rilancio di un settore che è fondamentale per tutti noi. Noi diciamo cosa c'è che non va in fondazione Sistema Toscana? Qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni. Va avanti con il 90% di soldi regionali. Quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Sicuramente su questo fronte siamo estremamente critici. Siamo estremamente critici sia da un punto di vista di reale opportunità e anche di efficacia di tenere insieme alcune situazioni. Ci riferiamo in particolare a Toscana Promozione ma potremmo anche parlare di arti. Diciamo che nel dibattito consigliare e soprattutto in quelle che sono un po' le finalità di queste agenzie noi non troviamo risposte effettive rispetto alla missione per cui sono state istituite. Sì, un'approvazione un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti ma ad oggi il bilancio è, prima cosa, un bilancio inutile della fondazione che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente regione toscana. Nel marzo del 2022 ci siamo ritrovati a votare il bilancio 2020 della fondazione Sistema Toscana che è una fondazione partecipata all'83% dalla regione toscana quindi una fondazione quasi esclusiva proprietà della regione e questo ci ha un po' insospettiti, siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi oggi e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della regione non solo, guardando i bilanci ci siamo accorti per esempio che nel 2017 nonostante la regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a sfondazione Sistema Toscana ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio. Più che le polemiche sui tempi il mio è stato un intervento proprio nel merito dei numeri perché qui ci sono poste che non tornano sono interventi tecnici miei, ho cercato di spiegare all'aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato quindi più garantito di così non può essere un credito e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema e leggendo il bilancio mi sono accorta che l'agenzia delle entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione a pagina 74, chi vuole andare a vederlo lo può vedere che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile due agenzie regionali molto importanti abbiamo dato il nostro sostegno per queste che sono delle funzioni fondamentali della regione toscana la promozione turistica per la nostra regione è una funzione rilevante quella per eccellenza, la Toscana è la Toscana nel mondo e come tale la nostra agenzia deve essere sostenuta perché nel sostegno a questa iniziativa sta il sostegno alle imprese del settore turistico sta il sostegno a quei settori che sono fondamentali collegati appunto al turismo non soltanto delle grandi città ma anche della campagna diffusa e dei centri minori la Toscana ha bisogno di ripartire in maniera forte con una promozione che ci ricolle che a livello internazionale come tale il nostro sostegno è arrivato la stessa cosa va sull'agenzia regionale per l'impiego rispetto a una funzione nuova che va ricoprendo rispetto a dinamiche anche nazionali dove l'occupazione e l'impiego in momento di difficoltà post-covid può diventare ancora di più determinante per ricollocare in termini lavorativi molte persone e soprattutto per sostenere il lavoro in una fase difficile come quella attuale dove la guerra sta producendo anche un problema di carattere occupazionale nel nostro paese è Luca Bacciarelli il vincitore della terza edizione del premio Chianti Tesi a lui è andato il premio di 2.500 euro previsto per la migliore tesi di laurea magistrale in economia e management selezionata e valutata da una giuria di sei docenti universitari grazie a Chianti Banca per averci creduto per quello che fa sul nostro territorio oggi si parla di futuro si parla di futuro del nostro territorio si parla di giovani che attraverso le loro idee il loro lavoro di ricerca contribuiscono a costruire un territorio migliore la sfida che noi abbiamo lanciato con Toscana 2050 quella di provare a disegnare come cambia la nostra regione abbiamo bisogno delle migliori energie abbiamo bisogno che questo diventi un percorso da condividere con quante più persone possibili perché il disegno del domani del nostro territorio della Toscana dei nostri figli ha bisogno di tutte le energie e dello sforzo collettivo di tutti sono giornate come queste danno il senso di quello che facciamo sul territorio sono giovani studiosi che hanno costituito un'associazione di rilievo per il nostro territorio per il territorio del Chianti e attraverso questa associazione premiano e contribuiscono all'impegno e alla ricerca di altri giovani studiose e studiosi questo è molto bello perché conoscere l'economia locale loro hanno anche ormai rapporti con il nostro istituto regionale di programmazione economica significa avere gli strumenti per poter agire su quel territorio grazie al loro impegno da anni noi abbiamo uno strumento in più e va a grande merito di chi ha avuto la forza e il coraggio e noi come istituzioni cerchiamo di accompagnare questo percorso grazie anche alla sensibilità e alla generosità di alcuni sponsor grazie a tutti